L'erogazione dell'acqua a Nuoro dovrebbe riprendere nel corso della notte, una volta che sarà completata l'operazione di riempimento dei serbatoi che servono la città. Da notizia a Banoa che ha comunicato che i lavori ripristano dalla condotta soggetta a rottura sono terminati attorno alle 15.30. Pertanto l'acquedotto di Gianne Verru nel tratto di servizio a Nuoro e Mamuiada ha ripreso la sua piena operatività. I tecnici di Banoa hanno riscontrato in località Elisi, in agro di Mamuiada, due punti di rottura in un tratto di condotta in acciaio del diametro di mezzo metro. La riparazione, spiega una nota dell'ente idrico, ha richiesto l'intervento dei saldatori che hanno eliminato le perdite applicando due placche d'acciaio. Successivamente sono iniziate le manovre di riempimento dell'acquedotto, un'operazione che viene eseguita in maniera graduale per evitare pericolosi colpi d'ariete e della pressione che potrebbero causare ulteriori rotture. In serata, pertanto, sarà ripristinato l'approvvigionamento dei serbatoi comunali di Nuoro e Mamuiada. Il loro riempimento consentirà di ridare pressione nella rete idrica cittadina. A Nuoro l'erogazione all'utenza rientrerà nella normalità durante la notte. A Banoa comunica che nel corso della giornata è stato lasciato operativo l'approvvigionamento degli ospedali San Francesco e Zonchello, mentre per le altre utenze sensibili è stato attivato un servizio di autobotte. A Mamuiada, invece, è stata possibile evitare la chiusura dell'erogazione grazie all'approvvigionamento da fonti locali. Nelle abitazioni del capologo Barbaricino l'acqua manca da stamattina e l'improvvisa interruzione del servizio ha causato non pochi disagi ai cittadini e aziende. Si spera che nel corso della notte, come annunciato da Banoa, tutto rientri nella normalità. Grazie a tutti.